Capita sempre più spesso di trovarsi di fronte a delle persone che con l'arrogante supponenza di chi si sente assolutamente, presuntuosamente dispensatore di tutte le verità di questo mondo vi rovescia addosso una sua tesi su di una certa cosa, tesi estremamente irritanti, assolutamente insopportabili, che magari se venissero confutate accenderebbero un dibattito molto forte. Voi di fronte a situazioni del genere, quando vi accadono e quando vi capitano e state certi che vi capitano oppure vi capiteranno, come vi comportate? Io faccio una cosa molto semplice, non accetto assolutamente il dibattito contro questi presuntuosi, arroganti, supponenti personaggi che si sentono proprietari e dispensatori di tutte le verità di questo mondo. Io prendo, li saluto cortesemente e me ne vado via. E poi lascio a loro il campo libero del chiacchiericcio, del pettegolezzo dietro le mie spalle. E sapete che cosa faccio? Così. Loro facciano i loro chiacchiericci e io vado avanti con la mia coerenza e senza sentirmi un dispensatore di nessuna verità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.